Benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale Se state guardando questo video vuol dire che il live è saltato E mi dispiace tanto Però comunque auguri di buon anno Vi aspetto nei prossimi video Soprattutto nella nuova serie che sto organizzando Spiega 98 Tech Vi aspetto Ciao a tutti Buon anno di nuovo Ciao